La pace nei Balcani La terra dei Balcani è terminata e non c'è nulla di meglio che suggellare, con un bel bicchiere di solopaca doc, l'accordo ormai ottenuto. Il vino viene versato nei bicchieri dei due capi di Stato dal presidente della Cantina Sociale, felice di essere presente ad un evento storico. Fa da sfondo la Casa Bianca, simbolo della massima potenza mondiale, interamente ricoperta d'uva. Come dire, il vino non riconosce né confini né ostacoli. Come dire, il vino non riconosce né ostacoli. Come dire, il vino non riconosce né ostacoli.